Come è stato il tuo matrimonio? Davvero vuoi sapere se io e mio marito siamo in crisi? Cose tipo, da quanto è che non è andata a teatro? Ah, ti piace il teatro? Sì, era per dire. Comunque sì, mi piace. Solo che non ci andiamo naturalmente, è normale. La famiglia, il lavoro... Ma tu davvero mi stai chiedendo se il mio matrimonio è al capolinea? No. No, volevo sapere solo se ti sei sposata in chiesa o in comune. Mi serve per lavoro. In chiesa. Non mi sono sposata in chiesa. Ah, tu. E perché? Perché credo in Dio, perché? Una come te, intelligente come te. Pratica. Nel mondo ci sono più di due miliardi di cristiani, lo sapevi? No. I musulmani sono un pochino meno, ma comunque numerosissimi. Tutti i coglioni? Tranne te. Non lo sapevo. E ora lo sapevo. Non lo sapevo. Grazie a tutti